Il sottosegretario ai lavori pubblici, Sua Eccellenza Cobolli Gigli, presenzia il saggio di pattinaggio artistico, una brillante partita di palla a canestro e una partita di ok in occasione dell'inaugurazione del nuovo campo sportivo del dopolavoro del Ministero dei Lavori Pubblici a Lungotevere e Flaminio. Lavori Pubblici a Lungotevere e Flaminio.